E un fantastico ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati in questo nuovo video io sono ThePlay E oggi siamo tornati in questo nuovissimo video più freschi che mai Oggi siamo a recensire questa fantastica sigaretta elettronica della Wismake PodMod Con capienza da 2ml Prima di cominciare vi ricordo di iscrivermi al canale, attivare la campanellina E anche di seguirmi sui miei due canali Facebook e Instagram Ora passiamo alla recensione E' tornati finalmente su questa fantastica scrivania per recensire la iFlash della Wismake Andiamo, devo toglierla un attimo Boom, finalmente ce l'ho fatta Eccoci qui con questa fantastica scatola firmata Wismake Andiamo a vedere il suo contenuto Ed eccoci qui Questo è l'alloggiamento della sigaretta elettronica che ovviamente non ci abbiamo Ma è sopra il nostro tavolo lì pronta per la svapatina finale Andiamo a vedere Dentro manuali di istruzioni Se ce la faccio Eccoci qui Cartonciazzo schifoso via Qui dentro manuale di istruzione dentro Due coil che io praticamente ho già usato E qui Non mi ricordo che c'era Andiamo alla sigaretta elettronica Eccola qui signori La iFlash di Wismake Come avevo parlato prima E' una fantastica pod mod Perché pod mod? Praticamente è una pod mod Non una normale sigaretta elettronica La capienza è di 2 ml come vedete E Se riesco a inquadrarlo bene Una sega Le resistente sono da 0,35 ohm Capienza da 2 ml Levando questo tappino Si va a fare il refill Qui dentro troviamo i due magneti Che andranno a fare Andranno a riscaldare la nostra resistenza Qui sotto i due pin Mi scuso già se muovo troppo Benissimo Andiamola ad alloggiarla Sono 1,2,3,4,5 Per accendere e spengere 1,2,3,4,5 La porta di ricarica E il led Il led lampeggerà Quando Come si vede qui Lampeggerà Se lampeggia Se lampeggia 3 volte di fila Vuol dire che la batteria E' quasi andata E bisognerà ricaricarla Attraverso La porta usb I tempi di ricarica Sono Non lunghissimi Bene Ora che abbiamo visto La sigaretta elettronica In tutto il suo fascino Andiamo Alla svapata E le considerazioni finali Oh Rieccoci Finalmente qui Abbiamo visto La Wismek In tutto il suo splendore E ora Andiamo A Una svapatina Perché no Sentiamo se E' accesa Ottimo Di vapore Ne fa Un botto Non siamo ai livelli Della Wismek Noisy cricket Ovviamente Ma Come podmod Ci sta benissimo Io Ve la consiglio Se volete iniziare Costa sui 35 euro Mi sa che si è abbassata Anche Trovate il link Qui sotto Per Per comprarla E Noi abbiamo finito Ci becchiamo Come al solito In un nuovissimo video E Se non siete iscritti Al canale Iscrivetevi Buona ragazzi Buona ragazzi